Che posto è questo? Un modo molto elaborato per nascondere il dannato tesoro. Da che parte andiamo? Aspetta un secondo. Ci sono dei numeri romani nell'angolo della mappa di Drake. Devono voler dire qualcosa. Io resterò qui di vedetta mentre tu cerchi un modo per passare. Questa può tornare utile. Sta succedendo qualcosa. Nate, sei stato tu? Le cose hanno iniziato a muoversi qui. Sally, mi senti? Dannazione. Niente. Ciao. 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 Oh! 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 Ehi, ce l'ho fatta! Ehi, attento, qualcosa non sembra tanto sicuro. Jake! Tutto bene! Sto 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 bene! Let's go da chi dimentico! Qui non c'è niente Come al solito Nate? E' Drake Non l'ha mai trovato E' morto qui Addio grandi cose Ha sprecato la vita Per niente Nate Sei pronto per andare? Già Mai come ora Deve esserci una via d'uscita Sembra ci sia un qualche tipo di macchinario qui Ehi, una scala Beh, forse posso raggiungerlo se mi dai una spintarella Ok Sali Sali Sei più pesante di quanto sembri Riesci a raggiungerla? Sembra qualcosa come un vecchio montacarichi Sì, c'è una corda Prova a farlo scendere da te Oh, vedo una galleria Possiamo uscire di qui Ciao ragazzi Tranquillo Eddie, tranquillo Cosa diavolo sta succedendo là fuori? Non li hai visti? Oh no Oddio, no Siamo intrappolati Cristo, e quello cos'è? Siamo morti Siamo tutti morti Sì Oh 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 No 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 Eddie, torna qui Oh cavolo Drake Se non riuscissimo a farcela Voglio solo che tu sappia Che non ti sopporto Lo stesso vale per me, amico Ora andiamo La corda, qua giù Presto No La corda, qua giù Presto Dannazione È tutto alluginito Non si muove Siamo morti Siamo morti Siamo morti C'è Alan! E coi un po? Esatto, schifoso con Yoke Non si scherza con Eddie Raja Eddie! Eddie, resisti! No, non può essere vero Elena, sbrigati! Tieni duro, Eddie! Ok Fatto! Si muove! Afferra la corda! Forza, Nate! Ti faccio oscillare! Tieniti! Oddio! Non va bene, non va bene, non va bene! Da questa parte! Via! Via! Via, corri! Che diavolo era quello? Non so! Non lo so! Stai bene? Sì! Nate? Ok, non credo che possano superare questo Nate? Cosa? Dove siamo? Non ne sono sicuro Via! Via! Wow! Si spiega lo U-Bod nel Rio delle Amazzini Nate, vieni! Guarda qui! Allora lo hanno trovato Sono entrati nel nascondiglio e lo hanno ripulito Sì, ma cosa c'entra il monastero in tutto questo? Non lo so Non ha alcun senso Se ora la statua si trova qui Oh, cavolo! Ci eravamo proprio sopra! Scommetto che questo ci porterà in superficie Sembra che i nazisti non abbiano pagato l'elettricità Maledizione! Senti, se riusciamo a raggiungere il generatore Possiamo riattivare la corrente Prima dobbiamo trovare un modo per uscire di qui Aspetta, che stai facendo? Che stai facendo? Trovo una via di uscita Bel lavoro Già Bene, andiamo No, questa è tua, cowboy Cosa vuoi dire? Nate, io non posso fare quel salto Non pensare che ti lasci qui da sola con quelle cose Non abbiamo scelta Vai, riattiva la corrente Torna a prendermi e poi Andremo via da qui, ok? Vai! Tornerò subito, ok? Sì Vai! Vai! Vai... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sullivan, rispondi. Sì, rispondi. Accidenti, è inutile. Non c'è segnale qui. Che diavolo è successo qui? No, merda. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.